Signore e signori, Herman S. leggerà un'opera dell'anarchico Eric Weasel. Insalata noi mangiamo tenera, leggera e altra verdura mattina e sera. La frutta poi non è mai mancante, è l'orto il nostro tanto amato ristorante. E la carne noi non la mangiamo affatto, non ne mangiamo per niente. E le donne amiamo castamente. Mangiare carogne è sciocco e rozzo, piuttosto che farlo mi getto nel pozzo. Gli alcolici poi non beviamo affatto, se no... Il nostro cervello bloccarsi può. Ed il tabacco infine noi non lo fumiamo mai. Chi lo fuma è un gran peccatore, sai? Se queste norme tu seguirai, non avrai mai paura e vivrai secondo la tua. Questa poesia si direbbe che Musa avesse un gran bisogno di consenso. Per caso glielo hai negato, Ed? Non faceva che ciondolare pigramente qua e là, facendo grandi discorsi e sostenendo che le donne dovevano restare in cucina a darsi da fare per lui. Mi chiamava Bella Gitella Virtuosa.